La biotesiometria è un test diagnostico che viene utilizzato nella diagnosi dell'eiaculazione precoce. È un test che consente di valutare le soglie di sensibilità genitale per verificare un eventuale stato di ipersensibilità del glande come causa di eiaculazione precoce. Consiste nell'utilizzo di uno strumento noto come biotesiometro, cioè una sonda che emette delle vibrazioni a frequenza crescente e con questa sonda viene mappata tutta l'area genitale del paziente. Al paziente viene chiesto di riferire il momento in cui sente la sensibilità vibrotattile emessa dallo strumento. Alla fine viene compilata una mappa di sensibilità genitale utilizzata nella valutazione dell'eiaculazione precoce.